Il Paradiso 7, Carlos potrebbe essere costretto a sposare una ragazza aristocratica. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli spoiler della soap opera italiana ideata da Gianna Andrea Pecorelli, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo. Evidenziano che Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, avrà un malore improvviso a causa del quale deciderà di recarsi in clinica per saperne di più. A seguito di alcuni accertamenti, la figlia di Veronica, Valentina Bartolo, scoprirà di aspettare un figlio. Così comunicherà alla madre e al patrigno Ezio Colombo, Massimo Poggio, che il padre del futuro nascituro è Carlos. Proprio per questo, Teresio spingerà Carlos ad assumersi le proprie responsabilità con la cavallerizza del circolo. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, la famiglia di Carlos potrebbe averlo costretto a tornare nel capoluogo lombardo per sposare una ragazza aristocratica. Quindi l'eventuale paternità del bimbo che porta in grembo Gemma andrebbe a rovinare i piani in tal senso. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7, il passato burrascoso di Carlos emergerà in maniera prorompente agli occhi prima di Mario Radei, Piero Cardano, e successivamente, anche di Roberto Landi, Filippo Scarafia. Quest'ultimo, in onore della profonda amicizia che lo lega a Gemma, riferirà alla stessa quanto scoperto. Zanatta Junior, nonostante la non curanza iniziali, inizierà ad avere dubbi sempre più seri in merito all'integrità morale del suo spasimante. Dopo aver capito che Mario, Roberto e Gemma lo hanno smascherato, Carlos deciderà di troncare con la figlia di Veronica. E se la motivazione fosse anche un'altra? Se Carlos, difatti, fosse stato costretto dalla sua famiglia a tornare a Milano per sposare una ragazza aristocratica. Il ragazzo potrebbe aver preso la pala al balzo lasciando Gemma, reputandola di umili origini. Nonostante non vi siano spoiler a confermarlo ufficialmente, la famiglia di Carlos potrebbe avere un ruolo fondamentale per le scelte del ragazzo. Magari arrivando persino a costringendo a tornare a Milano per sposare una ragazza aristocratica. Se tale ipotesi trovasse riscontro e Carlos fosse realmente il padre del bimbo che porta in grembo Gemma, il ragazzo potrebbe cercare in ogni modo di sfuggire alle proprie responsabilità da futuro genitore, in quanto non vorrebbe venire meno agli obblighi familiari. Grazie. 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 Grazie.